Domenica dunque si va al voto, si voterà dalle 7 alle 23 in un'unica giornata, si voterà tutti per le europee e in quasi mille comuni della Lombardia anche per le elezioni amministrative. Un voto importante, inutile che ve lo dica io, però fatemi spiegare perché. Quello europeo è un voto importante perché si vota sul nostro futuro. Vogliamo un futuro chiuso, un futuro ripiegato su noi stessi o un futuro aperto, un'Europa che magari ogni tanto ci fa anche arrabbiare, però è l'unica prospettiva possibile per non tornare indietro a tempi in cui noi italiani eravamo un po' la barzelletta globale e in questo periodo un po' ci stiamo riuscendo, anzi ci stanno riuscendo. E a livello comunale perché il voto è tra chiusure e apertura, il voto è tra possibilità di uno sviluppo all'insegna di relazioni positive o invece una paura che ci fanno credere possa essere la sintesi migliore per i nostri giorni. Quindi dalle 7 alle 23 andiamo al voto e cosa volete che vi dica? Nel panorama politico di oggi credo che ci sia una proposta che per l'Europa e per i territori sia nettamente più aperta al futuro rispetto alle altre. Questa proposta è quella del PD e di tutti coloro che si sono messi assieme al PD a livello territoriale e a livello europeo.